Sì, osservateli con attenzione. Ne riconoscete qualcuno? Qualcosa in questa rapina è andata in maniera particolare, diversa dal solito. Pensateci. Commissario, ma come faccio a riconoscere da queste fotografie qualcuno che non ho visto? Ve l'ho detto, erano tutti incappucciati. Savastano, questa vostra indifferenza mi preoccupa. Non è la prima volta che voi salite su un commissariato, ma vorrei che fosse l'ultima. Hai stato ballerto tutto quanto? Alzatevi, industatevi. La vigre di forcella sta qua. Ogni giorno questa storia. Per me l'avvocato Leone, il tempo è da mare e questa storia deve finire. Non si può andare avanti e indietro, avanti e indietro. Vanno di ebrabbi te stamattina. Ma buo, sbrighiamoci, spizziamo queste formalità e sbrighiamoci. Caccato, Mimmo, che fa? Non come voi. E che faccio? Io sono una signora, una signora e vi fa in culo. Ma che sono questi qua? Facci nuove? Nuovi arrivi come voi e quando siete scoccianti, a voi vi dovrebbero arrestare ogni giorno una novità. Ma quali sono queste novità? Che è successo? Che è stato? Raffaella Carrò che fa? Ha sgravato? E con le cinque, che fa? L'hanno sparato un buco? E il signore Mandalino ha avuto le tre cose? E che facciamo volito a me? E tu che fai? Sei tu davanti a una signora? Alzati! Alzati! Alzati, cretino! E fammi assaltare! Non c'è più cavalleria! Non c'è più cavalleria! E chi lo guarda? Ma parli fra trocazza! Non sono quei delinquenti che vi interessano. Voi volete sapere quello che farò io? Sì, sì, certo. È un mio diritto. Commissà, voi sapete che io faccio il contrabbandiere? È un brutto lavoro rischiare la vita in mare tutti i giorni. Sava, facci te un favore, qua c'è un fascicolo intestato a voi che è pieno zeppo. Sembra la biblioteca nazionale. Sparatorie, risse, dichiaramente. E che è? Roba vecchia, commissà. Ah, è roba vecchia. Il commissario si è affezionato, si è affezionato a me! Perché chi mi prova, mi riprova e mi riprova ancora! Si è affezionato, si è affezionato che faccio lo sfoggio! Lo sfoggio di droghe affine! Ma qua c'è sfoggio! Qua facciamo l'arbre! L'arbre con la maiuscola! Oh! Ma che sfoggio? Ormai, commissà, io sono solo un uomo distrutto. Scusatemi, me ne vorrei andare. Va bene, Savastà. Io mi auguro solamente che questo nostro incontro non sia stato una cosa inutile. Perché voi non siete l'uomo al quale ammazzano moglie e figlio e non reagisce. Vi saluto, commissà. Ma fangolo, che guarda? Tu mi saluto pure, mamma mia, mamma mia! E che stai a fai, cangop? Mago, un bravo uomo come lui sopra l'acqua è stupido! Chi l'ha già passato tanta huaio? La moglie, la figlia ha accisa e voi lo chiamate cangop! Ma è possibile? I delinquenti stanno per la strada e le persone pervene sopra il commissariato! Le arrestate due! E questa è la giustizia! Carta, bollo, bolli e carta! E due facce di stronzi provvisori! Ma buttate tutto così in docesse! E fateci un tuffo pure voi! Capezzuto! Esposito! Capezzuto! Ha puntato Capezzuto! C'è un tuffo! Facete salvi! Il capo! Comandi, signor commissario! Purtroppo sono a corte di agenti e mi devo servire di voi due! Avete visto quell'uomo che è uscito adesso? Voi due gli dovete stare alle costole, notte e giorno! Se lo perdete di vista, li faccio buttare fuori dal servizio! Non dubiti, signor commissario! Non lo mollerò un minuto! Agli ordini! Andiamo! Am sponciato Capezzuto! Agente Esposito! Allora, passi prima io! Esposito, passi! Uè! Uè, Capezzuto! Ma che sta dimonaggia io? Puttana la misera! Se non ti vedi qua ti scappo un pugno che sono io lo so! Hai capito? Fascista! Tango, sei tutto quanto fascista! Già fai la rivoluzione! Poi lo faccio vedere! Uè! Bucchiacuccia! La fai, Angelo Luce? No! Dai, facci l'Angelo Luce, cazzo! Ma perché hai già fatto Angelo Luce? Ah, facci l'Angelo! Non dovresti tornare! Guardi, non la fai a cinta, non la fai a mostro! Una ananzinata, lei da coscia, coscia! Un avanti e un'altra indietro, un avanti e un'altra indietro! Io ero con me buon'angele figlia, ta 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 ta, E steve sotto ciote mamma mia, ta 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 ta, Ma torr'umani a trova mia. E coscia, e coscia, e coscia. Ti capi fa sceo, ma giù le coscia. Io ero con me buon'angele figlia, ta 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 ta, Ma scappo quando vedi capo la zia, ta 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 ta. Ehi, ma che stanno combinando qua? Oh, ma che cazzo è tutto il suo coltello? Capi su, ma tu per che cosa l'hai preso il commissariato? Si può sapere che cosa fai là in palata? Ti metti a portare a portare, bravo, bravo, bravissimi. Sei sempre tu, eh? Sempre tu. Però il commissario, che uomo affascinante. Gennari. E tu che fai con me? Stiamo aspettando a voi Ah, bravo, e Zananella chi è? Io voglio un amico Complimenti, piacere di conoscervi Io amano un vero E perché? Perché lo faccio E farlo sapere pure a me, no? Voi a Gennarino state portando a me la strada Io ammangendo Gennarino Con Salvador La mamma l'ha ingoiata a questo Sto detto, mi vuoi bene, o vero? Sì E non basta Io pure ti voglio bene Perché sei carino, sei gentile E mi piace stare con te Ma ora mi stai scassando e ballo Va, filo, curro da quella per di me Mare Ducato Uè, Gennarino Non si dicono queste cose L'ha imparato con voi A Gittimattina Quando si strunzi Ciao Gennari Ciao Come si, no ma? So ferma Sì, no ma?